Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale e oggi eccomi qua, finalmente sono tornato sullo schermo, su un grande schermo, no scherzo su YouTube, sono tornato su YouTube a fare nuovi video, a fare nuovi video e a fare nuove presentazioni perché in questo periodo ci sono stati degli svolgimenti, ci sono stati degli aggiornamenti in pratica come avevo accennato siamo andati avanti, abbiamo parlato di wallbox di ricarica, impianti fotovoltaici e continueremo sempre di più e in più stiamo mettendo in atto il nuovo blog, il nuovo sito il nuovo sito dove raccoglierà tutte le informazioni necessarie sulla ecosostenibilità parleremo di impianti fotovoltaici, parleremo di wallbox di ricarica, parleremo di come risparmiare parleremo delle piccole e medie imprese che vogliono risparmiare la propria bolletta di corrente stiamo creando questo, io assieme al mio team, assieme a un po' di persone stiamo creando questa cosa noi faremo anche le installazioni, faremo anche le consulenze, quindi ci sarà un aumento in più sia per me che per gli altri poi se volete altre informazioni, se volete essere sempre aggiornati sul mondo del fotovoltaico sul mondo delle cose sostenibilità, sul mondo del risparmio, perché qui parliamo anche di risparmio di risparmio sulla bolletta, sul mondo delle auto elettriche che ormai stanno aumentando sempre di più e si sta installando sempre di più colonnine di ricarica per queste macchine elettriche quindi diciamo che oggi era questo video di ritorno, anche di presentazione perché il blog, il nostro sito sta per uscire, sta per uscire a giorni quindi dopo semmai cercherò di mettere il link, se non vedete molte cose è perché lo stiamo ampliando lo stiamo modificando piano piano, spero che questo vi piaccia sia dall'ambito dei miei video, sia dall'ambito delle informazioni con articoli e conseguenze così avete tutto lì a disposizione e se vi serve una mano, se siete delle nostre zone potete anche contattarci per una consulenza, per una manutenzione e per molto altro ancora quindi per questo video è tutto, ciao a tutti da Andrea Lanciotti